Bella a tutti ragazzi, oggi siamo alla pista di Sarnano Ice per la festa della Befana, qui il mio amico Andrea. Ragazzi siamo in pista, ma sapete quando è divertente? Questo vlog sarà fatto. Attenzione, qualche mondo, allora tra poco dovrebbe scendere la Befana e qui è una festa, la Befana sta per scendere, Luca con grande piacere sta per arrivare la Befana, quindi tutti a destra e a sinistra, scegliete voi l'importante. Allora ragazzi, tra poco scende la Befana. Per far sì che scendano la Befana in questo mercoledì 6 gennaio 2016, in diretta su Radio Linea 9.1 per tutti gli amici di Sarnano Ice. Ci sono anche gli aiutanti della Befana. Attenzione signori perché sta per arrivare, la sentiamo in lontananza, il momento è quello proprio ufficiale, topico, per Antonio Masi aspettando lei, la signora così anziana che viene dal cielo, nonostante questa leggera pioggia quasi mista a neve, che forse poi ci regalerà qualche fiocchetto. Chi lo sa, noi siamo tutti in attesa, lo facciamo insieme. Più forte, più forte la Befana ci deve sentire. Non so se si vedrà ragazzi, non so se si vedrà, non so se si vedrà. Eccolo che arriva! Un applauso per la Befana, Sarnano Ice. È rimasta a benzo l'ora. Sta lanciando caramelle. Attenzione, Radio Linea numero uno, in diretta a Sarnano. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, ma in questo caso arriva alle 17.35 minuti. Arriva la Befana! Sì, è pesata di pipania! E... Oh, qua, qua! Ecco che arriva! Facciamo un applauso, tantissime per applausare un applauso! È arrivata! E porterai i droni! Ringraziamo anche gli amici dell'Acai! Preciosissima collaborazione! Eccolo! Di scelta della Befana, ragazzi! Per terra! Poggia! La sua scopa! Soltanto a ghiacciato della pista, Sarnano, on ice! Ma su YouTube, eh? Ciao a tutti! Ma non ce l'hai! Ma sì! Vai! Come ho! Vai! Ah! Radiolinea, ragazzi! Radiolinea! Sarnano Ice! Vlog! Della pista! Le persone! Preparatele! Vlog! Tutto quattro perché ha iniziato già con il lanciare caramelle per tutti! la torsa da Befana signori è arrivata tutti insieme Salvella Weiss è presente la Befana che viene giù dal cielo Befana tutto bene? mamma mia eh sì la Befana è un po' chiaramente provata perché comunque ha fatto un viaggio lunghissimo vero? ha preso tra l'altro aveva il telepass qui sulla testa e poi ora si è praticamente così liberata allora noi aspettiamo la Befana qui perché aspetta ci sono i doni vero presidente Nazareno Nicolai possiamo dare i doni in questo giorno perché mi raccomando l'auspicio è quello che tutti voi siate stati buoni e bravi questo 2015 lo sapete anche nel 2016 perché se non porta sollele carboni allora il primo regalo è per Gabriele Mariani dove è Gabriele? vieni qui che la Befana ha un pacco per te eccolo Gabriele sei stato bravo tu? sì sicuro? sì e allora dai un bacino alla Befana oh vedi che bello bravo Gabriele l'applauso lo facciamo eh mi raccomando poi Nicolò Pettinari dov'è Nicolò? c'è un regalo per te dalla Befana qualcuno ha anche un po' paura perché dice adesso che vuole da me la Befana e invece ha tanti doni Nicolò dai anche tu il bacino alla Befana con la foto quanti doni e regali grazie ancora la Provo con Sarnano che ha organizzato questa discesa Giacomini Edoardo dov'è Edoardo? lo sei? ragazzi questo vlog può finire qui la pista Sarnano Ice venite tutti ragazzi perché è molto divertente è una bella pista ragazzi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti